Al centro sportivo Poggio degli Olivi l'Under 17 di Mister Zuscitti coglie il primo successo stagionale piegando un buon Ascoli con un gol di Napoletano. Pronti via e il Pescara spinge sull'acceleratore. Festa, ben servito da un compagno, a tu per tu con Mercorelli prova il pallonetto senza successo. Napoletano alla mezz'ora si invola e conclude dal limite. L'estremo bianco-nero blocca la sfera senza particolari problemi. Qualche minuto dopo gli ospiti vanno vicinissimi al vantaggio. Vitale dal limite con una punizione magistrale scheggia l'incrocio dei pali. Dopo il tenere di spogliatoi il Pescara passa subito in vantaggio. Affrisalta un uomo e serve Napoletano. L'attaccante con la maglia numero 11 penetra in area e con un preciso diagonale batte Mercorelli per il gol che vale l'1-0. Sempre la truppa di Mister Zuscitti sfiora il raddoppio qualche minuto dopo. Festa a giro trova una grande risposta del portiere ospite. L'Ascoli non ci sta e prova a raddrizzare il match. Di Francesco penetra in area ma Capitan Cipolletti è provvidenziale nel deviare la sfera. E' l'ultima emozione del match. Un buon Pescara conquista l'intera posta contro un Ascoli Corriaceo e sempre in partita.